E benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. E voi come va? Come state andando in questo periodo? Che per me non so per voi ma è sempre più di così. Io aspetto, sto aspettando Pasco per vedere se effettivamente potrò rallentare un pochino ma non so se effettivamente mi porterà a qualcosa di buono. Però invece la puntata di oggi diciamo che è stata ispirata da un articolo che ho trovato nel giornale Le Stelle. Sì diciamo che potremmo sorvolare sul nome delle riviste scientifiche o di astronomia perché una si chiama Le Scienze l'altra si chiama Le Stelle quindi sì non c'è proprio grande immaginazione nell'editoria scientifica o comunque di divulgazione anche perché sarebbe effettivamente parlare del nome di queste cose peggio del parlare del nome che gli astronomi danno alle stelle o ai nuovi oggetti stellari. Sarebbe proprio come sparare sulla Croce Rossa. Però questo giornale che è stato fondato da Margherita Acche e Corrado Lamberti il primo numero che effettivamente ho letto cioè ammetto che non lo conoscevo questo giornale scientifico ma credo che anche che a voi forse non interessi quello che leggo quello che trovo in giro che le riviste che leggo però diciamo che è stata una rivista una scoperta molto interessante e no non è del 2022 il numero che ho letto ma del 2017 praticamente cioè io trovo giornali in giro al planetario ci sono anche riviste che è un po' più anzianotte mettiamola così l'altro giorno ne leggevo una dell'88 quindi diciamo che il 2017 mi è andato bene però mi ha colpito perché sfogliandolo mi è caduto l'occhio su questo articolo e visto che credo che come argomento abbia un enorme potenziale ne parlerò anche qui con voi perché come vi ho detto quest'anno cerchiamo di evitare l'hype e parliamo di quello che invece ci piace oddio non so se in passato abbia mai seguito l'hype abbia mai fatto diciamo che qua mi piace un luogo dove mi piace parlare con voi di quello che mi piace quindi faremo così anche oggi oggi parliamo di astronomia multimessaggera di che cosa significa chi ci manda i messaggi e soprattutto perché avere così tanti telescopi ma tutto questo dopo la sigla Astronomia al planetario podcast dove racconti, risposte e discussioni su domande astrocosiche si incontrano il podcast nella nebbia modenese che parla del limpido cielo notturno e quindi e quindi di che cosa vogliamo parlare mi scuso se per caso sentirete un po' di rimbombo oggi purtroppo non riesco a registrare nel mio classico studio di conseguenza potrebbe esserci un po' di rimbombo mi sto coprendo di pannelli fonoassorbenti quindi spero di riuscire a migliorare anche in post-produzione questo audio però poi sappiatemi dire quindi l'astronomia molto spesso viene fatta coincidere con le altre scienze a livello di oggetto di studio e anche di metodo ciò però in realtà non è effettivamente corretto anche soltanto a livello di oggetto usato per studiare e studiato è impressionante pensare che noi da oltre 2000 anni ne usiamo uno e uno solo ovvero la luce, i fotoni, tutto parte da un unico grande oggetto che noi ogni giorno chiamiamo luce quando infatti parliamo di onde radio, raggi X, raggi gamma quelli che fanno diventare verde, Hulk stiamo parlando dello stesso evento fisico che però si presenta sotto una faccia diversa in questo caso un'energia, una lunghezza d'onda differente però è sempre lo stesso oggetto di studio quindi fa molto strano noi parliamo di tantissimi eventi parliamo di tantissime cose che ci circondano nel cielo quotidiano però questo è tutto portato dallo studio di un unico grande oggetto in astronomia nel 2017 è avvenuto un fatto particolare possiamo anche dire una milestone, una divisione, un punto di non ritorno forse alcuni lo ricordano, nel 2017 ha fatto abbastanza scalpore ovvero la misura di un'onda gravitazionale non la prima che è avvenuta nel 2015 ma un'onda gravitazionale che si è originata dalla fusione di due pulsar e voi potreste pensare, vabbè, bello, però, però, però prima di tutto che cosa sono le pulsar? e secondo, cioè, sarà ben più importante la fusione di due buchi neri effettivamente si potrebbe pensare questo sì, diciamo che i buchi neri di cui sappiamo così poco e che sono così misteriosi, così interessanti sono veramente alla base della ricerca di frontiera però, di quando in quando, il plot twist, la rivoluzione, il cambiamento viene fatto da chi non ti aspetteresti di queste scoperte serendipiche, in questo caso, la nostra cenerentola che si presenta in un abito lussuoso, sotto le luci della sala da ballo attirando lo sguardo e distogliendo l'attenzione dei buchi neri è una coppia di pulsar quindi, quindi mi si permetta, presentiamo un attimo il nostro personaggio di oggi allora, le pulsar sono chiamate così perché per la prima volta furono osservate negli anni 60 con un segnale periodico ogni 0.03 secondi e dopo l'iniziale pensiero di aver trovato un alieno adesso non mi si rese conto che la teoria dell'alieno forse poteva essere un attimino tirata e quindi doveva essere qualcos'altro in questo caso stiamo parlando di ciò che rimane dopo l'esplosione di una stella una supernova che nelle cronache mondiali astronomiche nel 1054 divenne famosa perché primo comparve in cielo una nuova stella e poi perché questa seconda stella divenne così visibile talmente tanto luminosa da essere visibile anche di giorno quando c'era il sole ed è quella che noi oggi chiamiamo nebulosa del granchio e invece che essere una stella nuova in cielo era in realtà l'ultimo sprazzo di vita di una stella stelle come questa vanno incontro a una instabilità esplodendo e liberando nello spazio i loro strati superficiali hanno un incontro alla loro morte poiché di fatto non fanno più luce però da questa catastrofe da questa effettiva loro morte trovano a volte il modo di rinascere prima sono esplose come supernove ma lasciano dietro di loro un nucleo formato interamente da neutroni provate a immaginare un evento così importante da trasformare la natura degli atomi e delle particelle subatomiche che formano il nucleo della stella compattando queste particelle le une con le altre creando un oggetto così massivo delle dimensioni di qualche chilometro ma con una massa maggiore del nostro sole arrivando anche a due volte la massa del nostro sole quindi un oggetto effettivamente compattatissimo un oggetto estremamente denso e non è che questa palla di neutroni sia calma anzi diciamo che qua appunto seguendo la morte di questa stella è abbastanza scontrosa mettiamola così così tanto così tanto scontrosa da avere un campo magnetico che rompe costantemente la superficie creando immensi terremoti delle fratture e nello stesso tempo ruota anche velocissimamente su se stessa quindi abbiamo questo nucleo di stella compatto con un campo magnetico fortissimo che ruota velocissimamente ora succede e capita a volte che l'asse magnetico sia spostato rispetto all'asse di rotazione come sulla terra poi se questo capita e soprattutto se si sta ruotando non in 24 ore ma in 0.03 secondi e con un campo magnetico molto importante come in questi nuclei stellari ecco che in cielo ci capita di vedere un faro che ruotando ogni tot secondi o frazione di secondi come in questo caso ci mostra il suo campo magnetico e quindi ci arriva un segnale estremamente forte che noi riusciamo a catturare questo segnale è dovuto al fatto che il campo magnetico fa come acceleratore di particelle noi ad esempio ogni giorno sulla terra siamo protetti dal campo magnetico perché devia le particelle estremamente energetiche che arrivano dal sole e quindi ci protegge però in questo caso invece il campo magnetico fa invece da acceleratore accelerando queste particelle infatti attorno al nucleo di neutroni si trovano elettroni che stanno ruotando immersi nel campo magnetico sentendo questo fortissimo campo della radiazione questo fortissimo campo della magnetosfera accelerano e cominciano a curvare perché a un certo punto poi il campo magnetico si deve chiudere così facendo quindi curvando emettono radiazioni di altissima energia come radiazioni X e raggi gamma che poi noi vediamo ed è per questo che sono dei veri e propri acceleratori stellari quindi la nostra stella allora non è morta e il suo cuore continua a battere e in un vero e proprio senso a pulsare in cielo ed è quello che noi vediamo questi fotoni emessi dagli elettroni del campo magnetico che arrivano proprio dal nucleo morente di una stella e dal fatto che proprio il nome pulsare ricorda poi anche il nome di questi oggetti ovvero delle pulsare perché ogni tot secondi o frazioni di secondo pulsano in cielo come dei fari cosmici ora effettivamente la domanda solito è spontanea perché un evento di questo tipo ha coinvolto così tanto gli astronomi di tutto il mondo tanto che sia l'agenzia spaziale italiana la nasa quella l'esa l'agenzia spaziale europea così come in giro per il mondo hanno trasmesso in diretta l'uscita di questi dati quindi un dispiegamento di forze impressionante presagio di qualcosa di grosso come le foto del buco nero o le nuove immagini del James Webb Telescope quindi quelle che stanno che ogni giorno ogni settimana quando escono le nuove foto ci impressionano io ammetto che non essendo dentro l'ambiente non ci feci molto caso in quel periodo penso fossi al primo secondo anno di università quindi non ero ancora convinto di andare a fare astrofisica e non ci fece molto caso appunto o forse fu proprio questo il problema del fatto che non me ne resi conto fatto sta che tutti erano in fibrillazione poi ecco la notizia alle 14.41 del 17 agosto è stato registrato un segnale gravitazionale i rilevatori gravitazionali funzionano come già ci avevano dimostrato nel 2015 però si parla di un segnale gravitazionale diverso dagli altri infatti non dura qualche secondo ma dura oltre 100 secondi pensate circa un minuto e mezzo che è più di quello che serve a scaldare un bicchiere d'acqua in microonde mentre di solito un segnale gravitazionale dura quanto un bip del microonde quindi effettivamente ci si chiede tutti oibo cioè mi immagino proprio questi signori anziani che si sistemano gli occhiali davanti e fanno oibo che sta succedendo che succede cosa sta avvenendo qua mentre con l'Igo e Virgo i due rilevatori il segnale gravitazionale con la triangolazione riescono a risalire alla sorgente quindi dove si trova e con una buona accuratezza quindi da dove proviene il segnale partono tutti i telegrammi perché in astronomia ancora si utilizzano i telegrammi per dire ehi attenzione a quella regione di cielo ma ecco la sorpresa rispetto ai segnali precedenti dalla stessa regione di cielo è arrivato un lampo gamma due secondi dopo la propagazione delle onde gravitazionali un gamma ray bus un GRB anche per togliere un po' di mistero a questo gamma ray bus a tutte queste sigle che per noi astronomi mannaggia l'ora che io mi devo leggere devo costantemente trovare quando vado a leggere qualcosa di astronomia sembra di leggere un non lo so neanche un bugiardino perché sono costantemente sigli io devo sempre andare a vedere ok che cosa significa questo 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 e quest'altro quindi effettivamente sembra di leggere croc di lettere però per la prima volta nella storia si ha una controparte elettromagnetica di un fenomeno così esotico come le onde gravitazionali qualcosa che si conosce insomma oddio un po' tanto da dire nel senso che pensiamo di sapere come funziona o comunque la luce la stiamo studiando già da un po' di tempo rispetto alle onde gravitazionali quindi avere una controparte elettromagnetica avere una controparte luminosa è qualcosa che ci consente e dire ok lo possiamo collegare a qualcosa che conosciamo meglio per farvi un esempio sappiamo ad esempio da dove provengono i raggi gamma o i raggi x i raggi x vengono utilizzati anche in medicina per fare le lastre mentre i raggi gamma diciamo che non vengono utilizzati o per fortuna in medicina perché sono abbastanza energetici da rompere la molecola del DNA se effettivamente un fotone gamma ci colpisse o lo colpisse e siamo nel limite dello spettro elettromagnetico cioè al bordo più energetico e quindi anche la parte più interessante la parte che noi sulla Terra facciamo estremamente fatica a capire perché il nostro campo magnetico invece ci difende da queste particelle da questi fotoni così energetici di conseguenza è anche una parte dello spettro elettromagnetico che solo negli ultimi decenni stiamo imparando a conoscere meglio invece le onde gravitazionali sono ancora una parte ancora più esotica ancora più distante che conosciamo ancora meno però diciamo che tra i due conosciamo un pochino meglio la luce ma torniamo quindi ai gamma ribasta questo evento che ha seguito le onde gravitazionali la comparsa di questo raggio gamma di questi lampi gamma prima di essere osservati con una controparte gravitazionale di solito venivano osservati circa con una frequenza di uno per giorno comparendo però in zone completamente imprevedibili di cielo diciamo che forse grazie a questi possiamo anche capire come l'universo ci appare sempre fisso fermo senza mobilità in realtà questi questi gamma ribast ci danno un'idea di un universo che è in costante movimento un universo che è in costante evoluzione anzi è costantemente prevaso da queste esplosioni gigantesche che ogni giorno avvengono come ogni oggetto celeste diciamo che vengono classificati di solito si suddividono in due classi perché gli astronomi non si lasciano mai sfuggire l'occasione di classificare gli oggetti e si classificano in due modi molto furbi che ho trovato veramente molto complimenti a chi ha fatto questa suddivisione cioè quelli lunghi e quelli brevi posso dire che alcune volte effettivamente noi meritiamo di essere presi in giro ma si può dare questa definizione ma io non lo so veramente almeno trovate una classificazione di un altro tipo non so nascondila un pochino qualcosa in base classe A e classe B cioè non far capire proprio come li hai classificati vabbè comunque i primi cioè quelli lunghi quelli brevi durano meno di due secondi gli altri durano più di due secondi quindi lunghi e brevi perfetto abbiamo capito abbiamo fa riassunto decenni di astrofisica dei gamma ray bust dove i primi corrisponderebbero alla fusione o scontro di due oggetti compatti come proprio come le stelle di neutroni e gli altri invece sarebbero derivanti dai missioni provenienti dalle supernove quindi i brevi dalla fusione di due oggetti mentre i lunghi dall'emissione proveniente dalla supernova e quindi quello che si vide con i soli due telescopi spaziali per osservare i raggi gamma fu proprio un segnale un'accensione proveniente dalla regione di cielo da dove si è originato il segnale gravitazionale quindi conoscendo da più tempo i segnali elettromagnetici come dicevamo prima ci si attende una cascata di informazioni se noi abbiamo una prima informazione che arriva dalla parte più elevata dello spettro cioè dalla parte più elevata intendo la parte più energetica successivamente quello che io mi posso immaginare è una cascata ovvero informazioni che arrivano sempre con un'energia minore con una lunghezza d'onda maggiore quindi raggi X ultravioletto luce visibile microonde infrarosso microonde poi onde radio mi aspetto questa cascata con un tempo di arrivo sempre successivo alle onde gravitazionali le prime ad arrivare infatti che sono per appunto quello che si propagano alla velocità della luce le prime a generarsi sempre le onde gravitazionali perché sono le più energetiche dopodichè si genera questo lampo gamma a scalare raggi X e tutto quello che vi ho detto quindi nella comunità scientifica per la prima volta se prima si era presa un attimo alla sprovvista ora avendo più tempo a disposizione fa partire il famoso telegramma per dire di puntare nella stessa direzione dove era stato ricevuto il segnale gamma e quello gravitazionale per vedere se effettivamente la teoria quindi la cascata gravitazionale aveva una controparte per vedere se c'era effettivamente qualcosa per vedere se nelle ore successive si fosse visto qualcosa nelle altre bande energetiche quindi molti molti telescopi del mondo si sono fermati hanno messo in pausa tutte le loro osservazioni si sono riposizionati cercando di osservare quella posizione di cielo passano le ore si arriva e finalmente arriva qualcosa alla ricerca vera e propria di questa coda lunghezze d'onda crescenti passando dai raggi gamma ai raggi X è il cosiddetto follow up che sarebbe poi per inseguimento forse uno dei più partecipati della comunità astronomica partendo dal Cile dove circa undici ore dopo è arrivata la prima controparte della luce visibile della fusione di due stelle di neutroni anche il telescopio italiano REM in Cile se si chiama REM perché dorme nella maggior parte del tempo vabbè capisco se volete abbandonare il podcast se volete abbandonare in questo preciso momento la puntata lo capisco però sta per Rapid Eye Mount occhio rapido montato tipo una cosa no monte occhio rapido una cosa sembra tipo un nome indiano e successivamente oltre che appunto al telescopio italiano e dal Cile altri 70 telescopi in tutto il mondo hanno identificato l'evento andando a vedere in tutte le lunghezze d'onda identificando questo evento da cui tutto era partito come GW 17 08 17 oh e adesso noi ci fermiamo un attimo e spieghiamo che cos'è che cos'è questa sigla questo sta per gravitational wave quindi GW gravitational wave onda gravitazionale e i numeri i numeri che molto spesso tutti ci prendono in giro per questi numeri qua io invece sono molto d'accordo per mettere questi numeri perché sono la data la data in cui è stata rilevata capite 17 08 17 17 agosto del 2017 cioè fantastico bellissimo prima volta che hanno qualcosa che ha un senso effettivamente gli astronomi oddio ero felicissimo quando ho studiato questo quando me l'hanno detto cioè effettivamente il mio cervello ha fatto il suono dell'esplosione mi si è aperto ho fatto finalmente un cric quando ti vuoi scrocchiare una spalla e finalmente ci riesci e hai un momento di libidine e ci potrebbe stare effettivamente che adesso mi potreste domandare perché ci hai parlato di questo episodio e soprattutto di che cosa di così importante domanda lecita ovviamente anche perché dopo 20 minuti mi potreste chiedere ok però non hai ancora affrontato l'argomento di oggi questo vi ho voluto fare questa introduzione con un po' di storia perché finalmente possiamo comporre tutte le informazioni che ci arrivano dai telescopi a cui ci siamo abituati a quelli da cui appunto Galileo è partito a cui potete usufruire anche voi se venite al planetario eh blink vi faccio un piccolo se volete andare sul nostro sito informarmi su quelle che sono le iniziative del planetario anche che casomai partecipare ascoltare anche le puntate e condividere con gli amici comunque fino ad arrivare oltre da questi telescopi anche ad arrivare ai telescopi spaziali che guardano nei raggi X oppure ai radiotelescopi gigantesche antenne che stanno sulla cima di montagne i quali ci fanno anche domandare come è possibile parlare di astronomia con oggetti così strani da quello a cui di solito si associa il cielo stellato ognuno di questi di questi telescopi vede cose differenti di un determinato oggetto ma sono tutte facce della stessa medaglia tutti provenienti dalla luce e come in questo caso possiamo ricostruire con una buona certezza la vita di una stella lo scontro di due stelle capire da che cosa si è formato e che cosa c'era prima dello scontro o come addirittura siano formate le stelle prima dello scontro proprio grazie alla composizione di tutte le informazioni provenienti da questi telescopi in futuro o come sta già accadendo con James Webb una vita capire ad esempio la vita di una galassia solo componendo le informazioni che abbiamo ricevuto e confrontando la teoria vedendo finalmente davanti a noi di spiegarsi di questo sentiero che ci porta dalle onde gravitazionali fino alle onde radio avendo finalmente davanti a noi un quadro completo e non soltanto quindi oggetti che ci permettono di vedere lontano non solo più limitati dai nostri occhi dalla poca luce che questi raccolgono ma effettivamente qualcosa che si va a comporre un gigantesco puzzle che effettivamente ci permette di vedere tutto in questo caso ha ricostruito una pistola fumante che si stava cercando da decenni che ci ha permesso di risalire ai progenitori di un evento così importante e riunire finalmente l'astronomia sotto un unico grande ombrello quello che prima di allora si pensava che potesse provenire soltanto da oggetti come i buchi neri per la prima volta ha dato il via libera alla scoperta di tutti i telescopi che fanno parte della comunità astronomica e quindi ha effettivamente riraccolto tutti sotto un unico grande abbraccio ovviamente non c'è da cantare vittoria non siamo mai contenti ci mancherebbe anche altro non vogliamo mai essere contenti siamo ancora lontani da far coincidere tutte le cose che ci chiediamo con quelle che osserviamo però possiamo finalmente vedere cosa succede cosa collaborando è come se voi o fino fino adesso aveste osservato una pizza in bianco e nero non sentiste il sapore e non ne sentite l'odore così come al tatto risulta tiepida invece il giorno dopo a cena vi sedete e sentite l'aroma di pomodoro provenire dal forno poi il primo morso il basilico sulla pizza che contrasta con il rosso del pomodoro il bianco della mozzarella ovviamente condita come preferite ecco stiamo vivendo questo finalmente in astronomia una gigantesca pizza italiana non più singoli osservatori che guardano oggetti diversi ma osservatori che vanno a guardare oggetti che sono stati già osservati e che ci permettono di avere un quadro completo di ciò di cui stiamo osservando di addentare questa pizza io ho fame voglio mangiare si capisce anche dal paragone che ho fatto in questo momento però è bellissimo essere in questo momento e vivere effettivamente queste esperienze vivere questa scoperta come anche prendiamo un attimo ripensate a James Webb e le immagini che sta prendendo dopo Hubble e a che cosa che stiamo piano piano sovrapponendo rispetto a quelle che abbiamo visto con Hubble andando a vedere queste gigantesche nubi di gas che prima non vedevamo dando corpo dando un sapore dando uno spessore a quelle immagini che già prima ci incantavano e adesso effettivamente ci troviamo davanti a qualcosa di bellissimo io vi invito proprio andare a osservare la composizione delle immagini tra l'idm 74 fatta da Hubble e James Webb si vedono le stelle ma in quella di James Webb si vedono anche tutte le nubi che invece con Hubble non si riuscivano a vedere ed è bellissimo ma riprendiamo ancora la prima pulsar la nebulosa del Gran che è una supernova che appunto nel 1054 ha illuminato il cielo è stata osservata per la prima volta nella luce visibile che poi è quella che gli ha dato il nome poi nei raggi X con i primi telescopi che per le alte energie alla fine degli anni 60 fino agli anni 2000 in cui si riesce a vedere quello che è il cuore della stella morente quello che è la pulsar e che tuttora è lì e ha un disco di materia fusa attorno che anche emette nei raggi X e nei raggi gamma facendoci capire moltissimo di che cosa succede attorno al nucleo e che comincia a ruotare in maniera sempre più veloce trascinandosi dietro parte della stella che prima era esplosa venendo quindi nella parte più esterna nella nube più antica la nube che ha perso più energia che adesso immette invece nelle onde radio la prima parte che ha brillato che nel 1054 hanno visto per la prima volta quelli che erano gli strati superficiali della stella mentre possiamo appunto da queste zone più esterne andando a scavare negli strati grazie alla natura della luce arrivando a quelle parti più interne andando a vedere appunto le zone più energetiche che sono anche quelle che variano in maniera più repentina quindi abbiamo proprio uno spaccato di quella che è l'astronomia da un lato oggetti che sono fermi eterni nell'universo quelli che ci danno l'idea di un oggetto che è qua da decine di miliardi di anni e che sono nelle onde radio luce visibile e poi andando nei raggi X nei raggi gamma andando a vedere invece un universo che è completamente diverso che cambia ogni due secondi che ti modifica lo spazio attorno e che anzi ti mostra queste immense esplosioni e poi appunto è stata osservata dall'osservatorio Kamioka per i neutreni particelle subatomiche che viaggiano quasi alla velocità della luce collegati proprio all'esplosione della stella una produzione di neutreni che è stata inserita nelle equazioni teoriche le quali ora devono rispettare questo per poter descrivere una vera esplosione di una stella e riuscire poi a descrivere e a capire in maniera completa quindi tutto ogni giorno cerchiamo di imparare cose nuove perché abbiamo ancora alcuni punti di domanda che ci dicono come è possibile che una stella esploda e forse l'esperimento la soluzione sta in queste particelle in queste risposte che solo adesso riusciamo effettivamente a trovare tutto questo effettivamente poi senza valutare una cosa che ci potrebbe sembrare sembrare mi è uscita come gatto silvestro sembrare ci potrebbe sembrare completamente staccata ovvero la controparte gravitazionale legata all'emissione elettromagnetica e le emissioni delle particelle capire come queste interagiscono con una forza così misteriosa come la gravità di cui ancora non si sa praticamente nulla ad esempio ma sono soltanto esempi le onde gravitazionali subiscono l'influenza dell'ambiente circostante per la loro formazione la galassia ospite c'entra qualcosa quante particelle e quali partono dallo scontro di stelle vicino a un buco nero tutte domande che sorgono e che stimolano a continuare a cercare capire di che cosa si sta parlando o ancora ci sono tantissime domande come che cosa sono i raggi cosmici che li genera solo grazie a tutti questi messaggi in bottiglia gli uni che sembrano separati dagli altri possiamo risalire alla risposta e mettere assieme tutte queste mini bottiglie che ci arrivano alla risposta almeno o almeno provarci appunto per darvi un'idea i raggi cosmici è un problema che risale 1780-85 quando Coulomb padre della forza elettrica si accorge che due lamelle di metallo caricate elettricamente per quanto isolate dall'esterno si scaricavano a un certo punto spontaneamente quindi fai cambio esperimento prova a isolarle maggiormente ma nulla si continuano a scaricare quindi si continuano a ritoccare suppone che a scaricare questi fogli siano delle particelle ionizzate nell'aria però la domanda è come? come è possibile? ancora all'epoca non si aveva chiara questa cosa si credeva ancora nel lettere e quindi c'era un problema potete immaginare come le domande abbondino in uno in uno con uno come si ionizzavano queste due lamelle come si deionizzavano due che cos'è che faceva ionizzare e soprattutto perché come quando insomma Coulomb a un certo punto proprio si è messo lì e non ha saputo dare una risposta bisogna aspettare circa 100 anni quando Marie Curie scopre la radioattività naturale quindi fotoni che vengono rilasciati spontaneamente da alcuni elementi e che possono ionizzare gli atomi circostanti andando a liberare un elettrone dall'atomo e da qui quindi l'idea che ci fossero delle radiazioni nell'aria e che fossero alla base della scarica del fenomeno osservato da Coulomb però come in ogni buona storia c'è un però se noi sommassimo tutti gli elementi radioattivi provenienti dal sottosuolo e quindi tutte le sorgenti radioattive ciò riuscirebbe a far scaricare e a produrre questi effetti che Coulomb aveva osservato come in una bella storia ovviamente i conti non tornano e si cominciò dall'alto del genio umano a dire oh cioè se non è sotto quindi se non sono gli effetti gli elementi radioattivi sarà sopra cioè ma Galileo chi metodo scientifico cosa se non l'è sopra se non l'è sotto l'è sopra cioè se non l'è zuppa è bambagnato c'era geni genio dategli un Nobel immediatamente e qui entra un campo un italiano infatti eravamo un po' un po' più sgaggi un po' più dire se non è sotto sopra ovvero Domenico Pacini che nel 1907 che dal 1907 al 1911 cominciò ad immergere un elettrometro praticamente uno strumento che serve per misurare la carica elettrica o la differenza di potenziale in volte si basa su un principio simile all'elettroscopio di Coulomb un'asta di alluminio a cui ha un'estremità dentro un contenitore isolato e l'altra fuori dalla scatola con dentro il contenitore posta anche una lamina di oro parallela all'asta quindi quando si pone vicino all'estremità all'estremità esterna dell'asta un oggetto elettrizzato con una carica quello che si osserva è che la lamina di oro si allontana dall'asta con un certo angolo e questo angolo è proporzionale alla carica elettrica esterna quindi modificando lo strumento rendendolo anche in modo tale che non entrasse dell'acqua ma con questa idea alla base ovvero cercare di registrare se avveniva qualcosa di elettricamente nell'asta che toccava la parte esterna lo immerge a tre metri di profondità e constatò che le radiazioni diminuivano ecco succede qualcosa e questo sembra proprio a conferma che non era sotto dove si trovava la risposta ma anzi era lo spazio era il sopra era là che bisognava andare un altro dei passaggi fondamentali sempre legato a questo argomento fu fatto grazie a Victor S che grazie a un pallone aerostatico arrivato fino a circa 5200 metri mise i suoi strumenti di misura e effettivamente vide un aumento importante dell'effetto quindi se da un lato vediamo un calo e dall'altro una crescita effettivamente tutti gli indizi portano lo spazio ma il nome raggi cosmici invece quello che poi ha appunto dato il via a tutto che sembra che qualcosa di molto fumoso non si sa bene che cosa questo nome arriva soltanto nel 1926 da Camero e Millicam forse vi ricordate il nome di Millicam perché è quello che scoprì la carica elettrica dell'elettrone vabbè uno che passava di lì insomma primo scappato di casa questi due ripresero appunto le misure subacquee di Pacini convinti che si trattassero di raggi gamma di altissima energia e Millicam arrivando a dire in un momento di poesia scientifica che voleva osservare il vagito di nascita degli atomi questa è effettivamente una bella frase e da lì in poi la ricerca non si fermò anche perché si voleva capire cosa fossero passando per altri esperimenti un punto importante ad esempio che diede conferma di una delle conseguenze della relatività fu la rilevazione di una particella circa 200-400 volte più pesante dell'elettrone era il muone fino ad allora teorizzato dal giapponese Yukawa ma mai osservato moltissimi esperimenti poi nella storia dell'astronomia e anche nella storia di cercare di capire questi raggi cosmici hanno cercato di dare un'idea di che cosa siano questi raggi da rilevatori posti nel ghiaccio in Antartide a rilevatori posti negli abissi marini e si scopre che il sole i buchi neri le supernova le stelle di neutron e gli scontri della galassia portano a formazione di alcuni raggi cosmici oppure anche i nuclei di galassia vicino a noi che riescono ad accelerare le particelle a queste altissime velocità proprio vicino alla velocità della luce andando a dare nuove informazioni su quanto l'universo sia energetico e quanto sia in continua evoluzione accelerando costantemente particelle come muoni deviandone altre e non solo radiazione elettromagnetica come si pensava fino ad allora quindi l'idea di Millicam cambia non si pensa più soltanto a raggi di luce fotoni o raggi gamma ma particelle massicce arrivando di fatto a creare una nuova branca dell'astrofisica ovvero lo studio delle astroparticelle si parla di particelle con un'energia 100 milioni di volte superiore a quella a cui si arriva dentro l'acceleratore del CERN a Ginevra per dare un'idea che è l'acceleratore più potente del mondo però il problema di questi raggi così energetici risulta essere catturarli anche perché entrano nell'atmosfera e si concentrano in un punto e quindi la sfida diventa avere dei rilevatori abbastanza grandi e su un'ampia area per riuscire a catturarne il più possibile e qui nascono osservatori atipici rispetto ai classici telescopi ovvero enormi vasche di acqua poste a 1600 metri in Argentina o i telescopi Cerenkov posti in giro per l'Europa e nel mondo di cui ne abbiamo proprio uno noi qua sull'Etna tutti con tecniche differenti ma per studiare queste particelle così energetiche che arrivano sulla Terra e di cui siamo praticamente ignari la collaborazione spaziale e astronomica ci sta regalando sempre più emozioni e voglio ricordarlo soprattutto in un momento come questo dove le strade degli stati sembrano dividersi e non permettere questa collaborazione insomma io voglio un mosso di questa pizza astronomica e non solo dalle particelle alle onde gravitazionali io voglio tutto in realtà si dovrebbe poi fare molti discorsi del perché l'astronomia multimessanger in italiano è stata tradotta con multimessaggera vuol dire molte cose e quando e a quanto parla la redazione dell'infn ha consultato l'accademia della crusca per avere la dicitura corretta in italiano che sta per multimessaggera multimessagger multimessaggera cioè non sono così tanto convinto che sia stata una difficile scelta per i ragazzi dell'accademia della crusca ma ma chi ha stato io per avervelo deciderlo quindi proprio sono l'ultimo che può parlare in questo caso leggendo l'articolo in questione mi ha fatto un po' sorridere ovviamente se riesco ve lo metto in descrizione della puntata per questo per questo nome sono sorti alcuni dubbi appunto all'accademia della crusca hanno dovuto alcune fare i conti un po' con il fatto che sia una nuova qualcosa di nuovo ovvero dire multionda o multi wavelength se vogliamo sempre fare gli inglesi per fare un po' più l'international non è proprio corretto e non ci stavo pensando effettivamente la astronomia multimessaggera di cui abbiamo parlato finora non sono solo fotoni per cui sarebbe corretto utilizzare astronomia multionda perché sarebbe lo stesso oggetto ma cambierebbe solo la lunghezza d'onda la faccia cioè che noi stiamo osservando che noi stiamo guardando come se voi guardaste una banana appena comprata al mercato e la riguardaste dopo due settimane che l'avete in casa sarebbe sempre una banana è semplicemente cambiata la sua forma oddio anche il suo aroma diciamo che non pensereste di fare una dieta completamente basata sulle banane anche perché l'avvelenamento delle banane si raggiunge circa con 400 banane al giorno quindi attenzione cosa stavo dicendo e mi perdo certe volte incavolate ah sì ecco qui però non consideriamo soltanto fotoni quindi non soltanto banane ma prendiamo che ne so anche pesche come i neutrini muoni raggi cosmici onde gravitazionali che utilizziamo per ricavare quante più informazioni possibili dalle sorgenti spaziali quindi non è corretto dire multionda e mi accorgo infatti di quanto siano pignoli gli astronomi per andare da quelli dell'accademia della crusca chiedergli una mano e poi correggerli quando ti danno anche un nome non perché sai questa cosa ci non sono soltanto fotoni e pensare invece a diversi messaggeri quindi a diverse forme che ci portano informazioni è la via più corretta quindi quelli dell'accademia della crusca dire multimessaggeri è proprio corretto però mi devo rimangiare la crusca per aver scelto bene una così tale parola inoltre stiamo andando alla conclusione quindi non vi terrò altro tempo alta rilevazione dell'astronomia multimessaggera è stata fatta nel 2018 grazie alla rilevazione di un neutrino cosmico con un'associazione di fotoni all'altissima energia che è stato fatto risalire a un blazar distante circa 4.5 miliardi di anni luce nella costellazione di Orione tutto questo per tornare poi all'inizio questa puntata mi è stata ispirata da questo articolo che ho letto in cui si dà proprio il via all'astronomia multimessaggera a quanto sia bello questo momento dell'astrofisica a distanza di sei anni da quel momento è come possiamo costantemente vedere quanto ci sia ancora da scoprire da capire da vedere collegare tutte le informazioni che negli ultimi 400 anni di astronomia da Galileo praticamente abbiamo accumulato e avere un'astronomia sì con molte branche specializzate ma che collaborano tutte per darci una grande immagine del cosmo e questo mi ha fatto veramente pensare e dire ok no voglio portare questa nuova faccia della scienza che ancora attualmente se ne sta cominciando a parlare ma è sempre bene utile è sempre bene ricordarlo è sempre bello portare queste cose nuove e quindi anche la puntata di oggi è arrivata alla conclusione io ovviamente vi invito a andare a mettere mi piace like a condividere questa puntata se vi è piaciuta se non vi è piaciuta me lo potete anche dire tranquilli le continuerò a fare più dislike ricevo più puntate così farò e no no vi prego no vi prego non lo fate e niente io vi invito appunto a mettere a seguirci sulla nostra pagina facebook pagina instagram dove pubblichiamo tutte le nuove puntate a mettere like al podcast a seguire tutte le iniziative che facciamo andare sul sito del planetario per vedere tutti quelli che sono gli eventi dove potreste anche trovarmi in giro per il planetario a raccontare appunto le storie dei neutrini che arrivano dallo spazio o come si forma una galassia sì sono quello nell'angolino un po' messo in ombra per cercare mi tengono lontano dalla gente per evitare che li vada a disturbare e quindi noi ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata in cui dovremo parlare di razzi fatti in casa non proprio in casa però e nuove missioni spaziali un po' strane fatte dalla comunità europea e anche da molti ragazzi qui a Modena quindi ciao ciao